Quando sono tornato c'era un uomo in casa mia. Aveva un braccio artificiale. State dicendo che ho ucciso mia moglie? State dicendo che le ho fracassato il cranio e poi le ho sparato? Bene, ascoltatemi. Abbiamo un evaso che è scappato da 90 minuti. Su un terreno accidentato, salvo incidenti, la media a piedi è di 4 miglia all'ora. Il che vuol dire che ha percorso 6 miglia. Quello che voglio da ciascuno di voi è una ricerca accurata di ogni singola casa. Benzinai, fabbriche, fattorie, gallinai, stalle, serre e canili di questa zona. Il nostro evaso è il dottor Richard Kimball. Catturatelo. Metti giù quella pistola. Gira. Non sto cercando di risolvere un passo. Invece io sto cercando di risolverlo. E ho appena trovato un pezzo importante. Giù. Gira. E che cosa ricche. Grazie.